Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Questo è un caso italiano famosissimo, ma per quanto mi riguarda, mancano sempre dei tasselli per completare il puzzle. C'era sempre qualcosa che non mi tornava e in effetti tuttora c'è qualcosa che non mi torna. Spero quindi che questo video possa essere all'altezza delle vostre aspettative. Oggi sono qui per parlarvi del caso di Novi Ligure. La storia, possiamo ammetterlo, la conosciamo tutti, è un caso molto famoso, che viene spesso messo a confronto con il caso di Pietro Maso. Erika De Nardo e Pietro Maso si sono macchiati dello stesso crimine, per motivazioni diverse. La tragedia di cui vi andrò a parlare avviene in Italia, più precisamente a Novi Ligure. Novi Ligure è in Piemonte, in provincia di Alessandria. Questa è la tipica cittadina nel cuore di una provincia ricca, che ha costruito il proprio benessere su una solida tradizione industriale. Siamo in una bella villetta di Novi Ligure, nel quartiere Lodolino, in via Don Beniamino da Catra, 12. Questa non è di certo la villa del sogno americano, come poi hanno descritto i giornali, esagerando come al solito. La casa di De Nardo è una normale villetta color salmone, su due piani con un giardinetto presente, sia davanti alla casa che dietro alla casa. Parliamo quindi della famiglia che vive in questa villetta. C'è la mamma di Erika, Susanna Cassini, detta Susi. La donna ha 41 anni, ed era una contabile. Da quando è diventata mamma, però, ha deciso di lasciare il lavoro per prendersi cura della casa e dei suoi figli. Il padre di Erika si chiama Francesco De Nardo, è ingegnere dell'azienda dolciaria Pernigotti. Poi c'è il friotello minore di Erika, Gianluca. E infine, eccola, Erika De Nardo, è la figlia maggiore e ha 16 anni. Ragazzi, io vi avviso, non sarò gentile in questo video. Vi dirò direttamente quello che penso. Erika è una ragazza che vive nella finzione. La mattina, come tutte le mattine, Erika finge di essere a scuola. E non sto dicendo che bigia a scuola, salta a scuola, senza dirlo a sua madre, assolutamente no. Il corpo di Erika in effetti c'è, è lì presente nell'aula scolastica, ma Erika non è lì e nessuno se ne accorge. Di Erika le persone vedono l'involucro, una bella giovane che sceglie bene i vestiti da indossare. Erika ha una necessità, deve rendere più bello il suo involucro. La mattina a casa De Nardo di solito c'è un grande biavai. I genitori chiedono in fretta ad Erika di mettere sul caffè per non fare tardi. Ed ecco che la ragazza è pronta a fingere. Fingersi preoccupati per l'interrogazione, fingersi sicuri per l'interrogazione seguente. Le risposte che dà Erika hanno un gusto di cibo precotto, pronto all'uso. Non c'è traccia di gusto, ma il suo pubblico, o meglio la sua famiglia, non pare essere molto esigente. E poi Erika ha capito che risposte dà ai suoi genitori per renderli felici e farli tacere, insomma. Nessuno può permettersi il silenzio nella famiglia De Nardo. Vivono di domande e di risposte come forse tutti gli esseri umani. Erika no però. Erika preferirebbe evitare tutte quelle domande. I genitori di Erika vivono sotto un galateo di regole che sostituisce completamente ragioni, principi e spiegazioni. E forse è proprio questo galateo di regole che Erika sente troppo stretto per i suoi 16 anni. Siamo al 21 settembre del 2000 ed Erika De Nardo inizia la terza geometria all'Istituto San Giorgio. Gli assegnano un tema di classe. La traccia è autoritratto, di linea i caratteri della mia personalità. Ed Erika scrive. Ho un carattere chiuso e poco cordiale. E non vado d'accordo con tutti. Sono tranquilla e so controllarmi. Anche se certe volte perdo le staffe perché non mi piace farmi mettere i piedi in testa da nessuno. Mi capita, senza sapere il perché, di diventare triste e di tenere il broncio. In questi momenti desidero stare da sola e divento scontrosa con tutti. I miei amici più intimi conoscono bene me e i miei stati d'animo e mi lasciano tranquilla finché non ritorno quella di prima. Ho molti amici, anche fuori nuovi, ma sono ben pochi quelli a cui voglio un mondo di bene. Perché penso siano ben pochi gli amici sinceri. Mi piace stare con il mio ragazzo, fare nuove esperienze, girare il mondo, anche se per adesso è un desiderio più che una realtà. Vivo con i miei genitori e con loro, certo, parlo. Ma naturalmente i miei punti di vista sono quasi sempre diversi dai loro. Sono molto esigente e chiedo molto a me stessa. Penso di rappresentare un modello di ragazza di oggi, con i desideri e le aspirazioni tipici di una sedicenne, con molta voglia di vivere e divertirmi, con i dubbi caratteristici della mia età. Erika, quindi, si descrive come un modello di ragazza di oggi. La scuola di Erika è stata descritta dai giornali come una gabbia dorata dell'aristocrazia locale. Ma no, non è così la sua scuola. È un edificio un po' antico, una scuola cattolica, diretta da un prete che forse era un po' stanco all'epoca, ossia Don Erasmo. La madre di Erika l'ha iscritta a quella scuola perché, secondo lei, i sacerdoti sanno parlare con i ragazzi, soprattutto se sono in pochi. E in effetti la classe di Erika è composta da nove alunni, lei compresa. I suoi compagni di classe non appartengono assolutamente alla classe dirigente della cittadina di Novi Ligure. La retta, a dirla tutta, non è proprio onesta. E la fama dell'istituto non propriamente lusinghiera, se vogliamo mettere i puntini sulle i. Però c'è un fatto. All'Erika basta organizzare la sua sopravvivenza scolastica. Insomma, se il figlio si limita ad essere scarso nei risultati, non vi è alcun problema. O meglio, non vi è alcuno scandalo. Può sempre rientrare nella categoria di quelli che gli basta il 6. Quindi, cosa succede quando Erika De Nardo può smettere di attuare la sua sopravvivenza scolastica? Esce da scuola Erika e sua madre, Susi, come tutti i giorni, è in macchina, fuori dall'istituto ad aspettarla. Erika sale in macchina, la macchina parte, e Susi ad Erika fa sempre la stessa domanda, tutti i pomeriggi. Hai comiti da fare? La risposta di Erika è sempre preimpostata, guarda fuori dal finestrino, mormorando sempre, ma, ma sì, poca roba. Erika non capisce il valore che sua madre e suo padre conferiscono ai suoi risultati scolastici. L'anno prima, Erika ha rischiato la bocciatura. Il solido regime di quiete di casa De Nardo ha rischiato il collasso, perché una bocciatura è uno scacco sociale. E Susi, la madre di Erika, infatti lo dice alle sue tante amiche. Dice però delle frasi troppo simili tra di loro. E vi faccio degli esempi ora. Mia figlia non è di certo una sgobbona, è una brava ragazza. Mia figlia è una bella ragazza, a cui piace uscire. Mia figlia, insomma, è una bella ragazza, ma bella bella, eh? È alta 1,75 m, viene con me in palestra. Mia figlia frequenta un corso di kickboxing, mia figlia ha un fisico atletico, in effetti anch'io per la mia età. Andiamo in palestra insieme io e mia figlia, io faccio spinning, lei kickboxing, due sorelle, due fisici atletici. Susi quindi con le sue amiche dipinge un rapporto totalmente diverso da quello reale. Ogni pomeriggio, infatti, la seconda domanda che Susi pone a Erika sempre è Oggi vai da Omar? Omar, questo è un nuovo personaggio che si introduce nella nostra storia. Omar è il fidanzatino di Erika. In realtà si chiama Mauro Favaro. Tutti, però, non ho ben capito perché, lo chiamano Omar. Erika va a casa sua ogni pomeriggio, dalle 15.30 alle 19.30. Susi, la madre di Erika, sa che la madre di Omar è in casa, mentre Erika va a trovare Omar. Questo le permette di archiviare il tutto sotto la voce merenda. Sì, perché secondo Susi, Erika e Omar fanno merenda, fanno i compiti, e poi probabilmente si metteranno ad ascoltare quella loro musicaccia che gli piace tanto, insomma. Questa donna dall'esterno appare come una donna moderna, che capisce i giovani, che li comprende. Erika e Omar e Imen hanno un rapporto amoroso sano per niente. Erika è gelosa da morire, ha paura che Omar guardi le altre ragazze. E allora ecco che tutti i pomeriggi che passano assieme si svolgono in modo identico. I due ragazzi hanno un rapporto, poi Erika si intristisce, pensa che Omar guardi altre ragazze e la tradisca. Si mette a piangere, piange in continuazione Erika. Alla fine però Erika riceve le coccole di Omar, che ovviamente non la tradisce assolutamente. Erika riceve le sue rassicurazioni e il tutto si conclude così. Tutti i santi giorni. Poi ecco che un giorno di settembre Erika inizia a parlare proprio del suo folle piano. Erika lo dice ad Omar, adesso basta, vuole libertà. Non è possibile che può andare da lui solo alle 15 e 30. Non è possibile che alla sua età non possa uscire la sera a cenare con Omar. Erika non ce la fa più a vivere con i suoi, vuole farli fuori. Erika inizialmente accenna questo piano, poi fa cadere il discorso. Ma più passa il tempo più lei e Omar parlano di questo durante i pomeriggi che passano assieme. Parlano di questo piano. Come vi ho già detto Erika all'inizio è proprio vaga, dice solo che vuole liberarsi dei suoi genitori. Ma poi quel tempo si aggiunge una parte al suo macabro desiderio. Erika spiega ad Omar come vorrebbe far fuori i suoi genitori. E a questo punto è sottinteso che Omar la debba aiutare. Inizialmente Erika pensa all'avvelenamento. Poi però cambia idea. Preferisce usare i coltelli. Nella sera del 21 febbraio 2001, il piano di Erika diventa realtà. Omar dal canto suo dice che è stato semplicemente coinvolto e convinto da Erika. Ora però, per dovere di cronaca, voglio narrarvi i fatti. Partiamo da cosa è accaduto. Da come l'opinione pubblica ha preso e ha preso questa storia. E di come poi Erika e Omar hanno gestito la situazione. O sia male. Ma andiamo con ordine. Erika e Omar hanno effettivamente agito tentando di far passare il tutto come un furto. Un furto che ahimè ha avuto delle conseguenze tragiche. Infatti Susi, la madre di Erika, e Gianluca, il fratello minore di Erika, vengono trovati in casa senza vita. Sono stati colpiti entrambi da dei coltelli. E in effetti le cose sono andate proprio così. Il 21 febbraio del 2001 Erika dà un ultimatum a Omar. O agiamo. O agiamo. Omar quindi quella sera accompagna a casa Erika come previsto. Sono le 19.20. È in anticipo di 10 minuti. La macchina del padre di Erika, Francesco, è fuori dal garage. È mercoledì. Ed è solito andare a giocare con i suoi amici ad una partita di calcetto. La madre di Erika, Susi, e Gianluca, suo fratello, non sono ancora a casa. Ma il loro rientro è previsto di lì a poco. Erika quindi saluta Omar frettolosamente. Gli dà un bacio e gli dice Io vado. Mio padre c'è ancora. Quando se ne vati faccio un segno dal balcone. Devi venire prima che venga mia madre. Capito? Omar è insicuro e dice ad Erika No, Erika, aspetta. Lei però lo inchioda con il suo sguardo. La verità è che Omar ha una paura folle di essere abbandonato. Non vuole che Erika lo lasci. Ecco perché tace e si limita ad annuire. Erika quindi entra nella sua villetta color salmone. Omar nel frattempo prende il motorino e lo parcheggia al villaggio Gabella. Rimane in un bar lì vicino per un quarto d'ora, venti minuti. È spaventato. Ma sa che quella sera deve fare qualcosa che gli ha chiesto Erika. La sua Erika. Quella ragazza che non vuole perdere per nulla al mondo. Quindi Omar spinge lo sguardo verso casa di Erika e nota suo padre uscire. Certo, Omar non è sicuro sia lui, ma chi altro può essere alle 19 e 30? Omar quindi fa qualcosa digno di ogni criminale di nota. Tira sul telefono. Le chiede letteralmente. È uscito? È proprio lui? Erika risponde a Omar dicendogli semplicemente. Vieni pure. Erika quindi scende la scala di casa sua. Arriva alla tavernetta e fa entrare Omar in casa. Poi gli dà dei vestiti. Lo fa cambiare. Omar quindi si toglie i jeans e la felpa che indossa per mettere una camicia nera e una tuta blu con strisce verdi. Toglie anche le scarpe Omar, rimanendo in calzini. È così che Erika, De Nardo e Mauro Favaro, detto Omar, attendono il rientro di Susi e di Gianluca armati con coltelli da cucina. Ormai è questione di pochissimi minuti. Erika non lo vuole colpire Gianluca che appena entra in casa scappa in camera sua per sistemare dei giochi dei Pokémon che Susi gli ha comprato poco prima. È così che appena la donna sale in casa e si toglie il cappotto, Erika e Omar si avventano su di lei. Susi ovviamente urla, cerca di liberarsi, riconosce i suoi carnefici e infatti la povera Susi inizia a chiedere a Erika, perché mi stai facendo questo? Ad Omar invece Susi urla, ti perdono. Per farla fuori a turno uno dei due la tiene ferma mentre l'altro o l'altra la colpisce. Gianluca, il fratello di Erika, è in camera sua, non ha visto niente, ma sente le urla di sua madre. Ecco perché esce da camera sua e scende di sotto per vedere cosa sta succedendo. Ed è così che diventa quasi obbligatorio. Ha visto troppo. Gianluca ha capito. Ha visto. Ed ora è necessario togliere di mezzo anche lui. Il tutto, sostiene Omar, sarà durato dai 10 ai 15 minuti. Poi, ecco che due donne, una madre e una figlia, percorrono in macchina via Don Bignamino da Catra. E, alla luce fioca dei lampioni, vedono sbucare Erika. È scalza e ha addosso quello che viene definito un pigiama. In realtà Erika indossa dei jeans. Sono le 9 di sera. È febbraio. Siamo in Piemonte. E fa freddo perché l'inverno è abbastanza rigido. La macchina quindi si ferma ed entrambe le donne vanno incontro ad Erika. Cercano di tranquillizzarla. L'abbracciano, gli dicono che va tutto bene e di star tranquilla. Poi, l'accompagnano in un bar lì vicino e chiamano il 113. Omar, ovviamente, nel frattempo se la dà gambe, recupera il suo motorino e poi se ne torna a casa sua. Ora io vorrei dire una cosa. Il piano che Erika e Omar hanno discusso tanto nei loro pomeriggi passati assieme non esiste. L'arma, le armi, le hanno prese in casa. Erika era a casa, Omar era con lei. Questo vuol dire che non c'è un alibi né per Erika né per Omar. L'unica cosa che probabilmente ha giocato a loro favore, fino al punto di scagionarli quasi, è stata l'assenza reale di un movente. Perché la vera domanda di questo delitto resta sempre la stessa. Perché? Erika non ha un motivo logico per rompere quelle regole elementari. Quelle regole non scritte, che di certo non si ripetono di continuo, insomma, non andate in giro a dire al prossimo Ehi, guarda che non si uccide, eh. Si sa. Non è una cosa che si deve fare, uccidere. Mai. Ed ora voglio dire qualcosa che magari farà stoccere il naso a qualcuno, magari no. Fatemi sapere. Se tua madre ti snerva, tuo padre ti ostacola, e tuo fratello ti provoca gelosia solo perché è nato 5 anni dopo di te, forse sei tu che te ne devi andare. Forse sei tu che devi fuggire, cambiare aria. Forse quello non è il posto per te. La verità è questa. Erika avrebbe potuto fuggire. Certo, non subito. Ma avrebbe potuto farlo comunque. Ha sempre avuto buone braccia, gambe per lavorare e salute. E anche abbastanza intelligente, Erika, anche se a scuola non si applica neanche un po'. E qui io mi chiedo, perché questa assenza di spirito, di iniziativa? Devo ammetterlo, è proprio questo che mi ha lasciata inchiodata a pensare a questo caso per mesi. Sicuramente Erika era giovane, ma con un pochino di pazienza, Omar sarebbe diventato maggiorenne appena l'anno dopo. Erika due anni dopo e al limite avrebbero potuto tirar su baracche e burattini per andarsene. Cercare la loro felicità che, evidentemente, non era a Novi Ligure. Forse però sono io che sto facendo un enorme sbaglio a valutare questo caso. Perché come vi ho già detto in precedenza, non c'è alcun movente plausibile. Sono circa le nove di sera quando un agente della polizia stradale, di Seravalle Scrivia, in servizio nella sala operativa, risponde a una telefonata. Dove una ragazza di nome Erika De Nardo chiede soccorso perché qualcuno vuole uccidere suo padre. L'agente gira la segnalazione ai carabinieri, che pensano si tratti di un furto ancora in corso, con gli autori ancora all'interno dell'abitazione. Alle 9.12 arrivano, davanti alla villetta color salmone, in via Don Beniamino da Catra 12, tre gazzelle e un'autoambulanza. Il cancello del giardino anteriore è spalancato, ed è aperta anche la porta principale. I carabinieri quindi entrano nell'abitazione e trovano al piano terra, oltre a numerose tracce di sangue, anche oggetti d'oro, finiti sotto un tavolino a un coltello da cucina insanguinato. C'è il corpo supino di una signora a terra, e quello è il corpo di Susi Cassini, la madre di Erika. Al piano di sopra, sempre in mezzo a molte tracce di sangue, viene trovato Gianluca. È in bagno. Entrambi sono avvenuti a mancare per lo stesso motivo, accoltellamento. Erika, che deve fare la parte della figlia che ha perso due membri della sua famiglia, risulta agli inquirenti come una ragazza glaciale, fredda. Erika non manifesta nessuna tensione in particolare. Nonostante Erika non manifesti nessuna tensione particolare, la sera del 21 febbraio Novi Ligure non riesce proprio ad andare a letto. È finita in televisione e le immagini del lodolino, il nuovo quartiere borghese a pochi passi dal centro, scorrono senza sosta. C'è stato un furto e un delitto. Un delitto terribile, tragico, feroce. Quella sera la gente di Novi Ligure è sicura. Quella villetta in via da Catra è passato un mostro. Un mostro terribile che si è portato via due brave persone. Che ha distrutto una famiglia per bene, onesta, lavoratrice. E infine rimane Francesco De Nardo, il padre di Erika, che quella sera era a giocare a calcetto. Ed ora, poverino, non si dà pace. È talmente colpito e scioccato da ciò che è successo, che chiaramente preferirebbe stare da solo, sottrarsi a quell'attenzione morbosa. Inquirenti, come già vi ho detto, pensano a un furto finito male. Chissà perché nessuno fa caso al fatto che in casa non mancano oggetti di valore. Erika e Omar neanche ci hanno pensato di simulare davvero una rapina o un furto. Comunque, accanto a Francesco De Nardo, ecco che spicca. Sua figlia è sedicenne, Erika. Secondo la sua versione, è un miracolo che sia ancora viva. Perché Erika racconta una versione della storia, che la vede come una povera crista che è scampata al massacro. Quello raccontato da Erika sembra un film horror. Infatti Erika racconta agli investigatori che quella sera stava nella sua stanza. Suo padre era uscito da pochi minuti per andare a giocare a calcetto. Lei stava ascoltando della musica con le cuffie. Ecco perché dice di non aver sentito nessun rumore sospetto. Erika però dice di sentir rientrare sua madre e suo fratello. Poi Erika dice di aver sentito un urlo. Un tonfo e un altro urlo sulla scala. Di conseguenza Erika dice che si è spaventata. Ha spalancato la porta di camera sua. E ahimè ha visto una scenara capricciante. Davanti a lei, al primo piano, un uomo sta facendo del male a Gianluca. Quasi subito si avventa sulle scale anche Susie. Che ovviamente vuole soccorrere il figlio. Erika a questo punto inizia a dire che le cose sono confuse. Ma sa chiaramente di aver visto sua madre essere aggredita da qualcuno armato di coltello. Susie quindi urla ad Erika di fuggire, di scappare via. Di salvarsi. Erika ahimè non ha tempo di aiutare ma di scampare a quell'uomo. Riesce quindi a scendere le scale, arriva al pian terreno, va verso il salotto e lì si trova un altro uomo. Il primo uomo, quello sulle scale, Erika lo identifica come un uomo non troppo giovane. In quanto aveva una barba bianca. Mentre il secondo lo descrive più giovane. Erika quindi sostiene di essersi avvicinata al mobiletto degli alcolici. Ha afferrato una bottiglia di whisky. L'ha lanciata contro il secondo uomo. E poi ha iniziato a scappare. Erika quindi si ritrova a scappare dalla taverna. Riesce quindi a uscire di casa per poi fermare un'auto che sta transitando lì. Come già vi ho detto Erika dà una descrizione di questi aggressori. Una persona più vecchia e una persona più giovane. Gli inquirenti quindi le mostrano un album di foto segnaletiche. E dopo averlo sfogliato per un po' Erika sobbalza. Ha riconosciuto l'aggressore. È un giovane albanese. Vive con la famiglia e i suoi fratelli in periferia. Ed è così che a Novi Ligure scoppia la caccia allo straniero. Gli inviati e gli speciali alla televisione hanno già trasformato questo caso di cronaca come uno dei peggiori della storia del nostro paese. È così che a Novi Ligure inizia a diffondersi la paura. E la paura viene riversata sugli stranieri. Questa volta sono gli albanesi. Sono sempre loro e solo loro. Gente che vive ai margini ed entra in città solo per fare del male al prossimo. Quindi c'è un'evidenza. Tutti cercano un assassino al di fuori della comunità. Si cerca il colpevole, uno straniero che ha distrutto una famiglia felice. Una famiglia modello. È così che grazie alle indicazioni di Erika i carabinieri riescono a rintracciare il primo sospettato. Come già vi ho detto è un giovane che vive in periferia con la famiglia. Si chiama Cesar Tellalli e ha appena 17 anni. In casa nasconde dei vestiti sospetti. Ha dei cappellini e un giubbotto che corrispondono alla descrizione data da Erika del colpevole. Il ragazzo però appena viene portato in caserma si difende perché lui, un alibi, a differenza di Erika e Omar, ce l'ha. E come? È stato visto da delle persone in un altro luogo durante l'ora del delitto. Il ragazzo infatti era andato a giocare a bullying. L'hanno visto, l'hanno riconosciuto, l'hanno scagionato. E allora a questo punto che cosa bisogna fare? Beh, bisogna continuare a cercare. E chi si cerca? Bisogna cercare un altro albanese che corrisponde con la descrizione data da Erika. Una volta trovato lui non sarà difficile individuare il complice più anziano. Gli inquirenti quindi chiamano di nuovo Erika in caserma e le chiedono un nuovo sforzo. Le mostrano nuove foto di pregiudicati italiani, albanesi. Erika però inizia a confondersi. Quella ragazza ha subito uno shock tremendo, ha bisogno di riposarsi, di riprendersi. Intanto gli inquirenti battono tutte le piste investigative possibili. Non passa nemmeno un giorno dalla tragedia che in via da Catra arrivano gli uomini del RIS di Parma. Dalla dinamica delle tracce lasciate, Luciano Garofano si dice fiducioso di riuscire a ricostruire la vera dinamica delittuosa. Il racconto di Erika è vero, ha aiutato molto le autorità. Ma già secondo le prime impressioni del colonnello Garofano, nel racconto di Erika c'è decisamente qualcosa che non va. Perché nessuno ha sentito le urla di Susi e di Gianluca? Perché la porta d'entrata non è mai stata scassinata? Se la porta d'entrata non è mai stata scassinata, come hanno fatto i due rapiratori ad entrare in quella villetta? I De Nardo hanno un cane. Perché mai il cane non l'ha abbaiato? Inoltre c'è un'altra cosa che non torna affatto. L'orario presunto della rapina. La villetta è collocata in un quartiere residenziale. I giornali hanno detto che è una villa dispersa nel nulla. Ma no, non è così. La villa di De Nardo, come già vi ho detto, è collocata in un quartiere residenziale, con tante altre case accanto, dove a quell'ora tutti sono a casa per cenare. Chi è quel ladro così folle da programmare a quell'ora una rapina di quelle proporzioni? Gli esperti parlano di un crimine eseguito con estrema violenza. Un ladro in fuga non ha tempo di infierire così sulle vittime. Poi finalmente gli inquirenti si rendono conto di una cosa. I ladri rubano. Mentre in quella villetta color salmone tutto sommato non manca nulla. Gli inquirenti a questo punto sono sempre più perplessi. Non convince la storia degli albanesi, non convince la modalità del delitto. E poi c'è l'atteggiamento di Erika, che durante gli interrogatori risulta così fredda e distaccata che i carabinieri iniziano a chiamarla il ghiaccio. Ma è possibile che una ragazza che ha subito una tragedia simile sia così distaccata? Forse ha subito uno shock enorme? Beh, è probabile. Una reazione simile può avvenire. Ma se invece la verità fosse un'altra? Se Erika stesse nascondendo qualcosa sul delitto della sua famiglia? I inquirenti a questo punto vogliono scoprire chi sia davvero Erika De Nardo. Ma a questo punto ci sono delle fonti che differiscono in un poco. La prima è quella che vi ho illustrato finora. Ma nel secondo caso c'è chi dice che Erika e Omar erano grandi consumatori di sostanze. Consumano Coca Cola o ancora cose allucinogene. Si dice che Erika veda un giorno se e un giorno no gli alberi camminarli attorno. Insomma, vengono dette tante cose. Tante cose che però non si capisce se siano veritiere o meno. C'è chi dice che avessero bisogno di soldi per mantenere le loro dipendenze. Ecco perché hanno colpito. Poi da quando Erika si è messa con quello lì, con quell'Omar Favaro, le cose sono peggiorate drasticamente. Omar è figlio di un barista un po' hippie della città. Era un ex camionista in realtà. Inoltre si inizia a dire che tra Susi ed Erika in realtà c'era un rapporto gravemente conflittuale. Molte testimonianze parlano di frequenti litigi tra madre e figlia. Di qualche sberla che vuola ogni tanto. Descrivono un'Erika esasperata che minaccia in continuazione di andarsene di casa al raggiungimento della maggiore età. Erika però dal canto suo all'apparenza si adatta alle regole imposte da sua mamma. Mai un ritardo. Mai un'uscita serale. Altre persone di Novi Ligure sostengono che Erika prima che si mettesse con Omar era una vera e propria sfigata. Anzi, cito testualmente, era la sfigata del gruppo. Poi dicono che ha cambiato compagnia, stile e anche discoteca. Queste persone dicono che Erika stava fuori anche per due giorni a Milano. E questa cosa cozza terribilmente con la realtà. Che come al solito è stata esasperata. Erika non è una ragazza a casa e chiesa. Verissimo. Ed è ugualmente vero che Erika ogni sera torna a casa in perfetto orario. 19.30. Non un minuto di più. Solo che poi Erika dopo esce di nascosto qualche ora più tardi mentre la sua famiglia sta dormendo. Omar, il fidanzato di Erika, non è che a Novi Ligure abbia questa grande fama. Dicono sia un ragazzo ribelle, un po' bulletto. Non frequenta assolutamente buone compagnie. Io mi sento di dire solo una cosa. Omar con i suoi 17 anni non è neanche un ragazzino. È proprio un bambino. È infantile. In questa nuova versione, i pomeriggi, Erika e Omar li passano sempre insieme in camera di Omar a far cose a letto e a provare sostanze. Ecco spiegata l'assurda paranoia che ogni tanto sale ad Erika sul fatto che Omar la tradisca. Sono le sostanze? Omar, peraltro, ha anche una grande passione. Vorrebbe fare il disc jockey, ma Erika si mangia anche questo suo sogno perché deve esistere solo lei nella vita di Omar. Nessun altro. Quando Omar va a far serata, Erika si arrabbia. E anche parecchio. Si arrabbia perché non può essere lì con lui. Ma soprattutto si arrabbia perché non può tenerlo d'occhio. Alla fine Omar cede. Rinuncia anche alle sue serate. Motivi di tensione quindi ce n'erano. Ad entrambi i genitori non piace il rapporto così intenso che hanno Erika e Omar. Precisiamo che Omar frequenta l'istituto tecnico e ha 17 anni. Dalle indagini ben presto esce fuori che Erika e Omar hanno una relazione molto, molto, ma molto problematica. I due si mettono insieme e pian piano smettono di uscire con gli altri. Erika e Omar smettono di uscire con gli amici, si isolano. Diventano solo loro due. Loro due e nessun altro. Le indagini procedono, è venerdì 23 febbraio. Sono passate 36 ore dal tragico fatto. I giornalisti sono accampati davanti alla villa. Ed è a questo punto che c'è il primo sopralluogo. Arriva una macchina da cui scende un carabiniere. Poi scende un magistrato. E poi, eccola lì, Erika. E subito dopo Erika c'è anche Omar. La tensione è tutta su Erika perché tornare in quella casa sembra che non le provochi nessuna emozione. Nessuna. Si sofferma con gli investigatori nelle varie stanze per descrivere come si sarebbe svolta l'aggressione. Gli inquirenti incalzano. Fanno notare a Erika i buchi nel suo racconto. Ma la ragazza glissa. Si scusa. Mentre invece Omar non spiccica una parola. Non dice assolutamente niente. A questo punto Erika e Omar vengono messi in un certo senso alla prova dalle forze dell'ordine. O meglio, gli tendono una trappola. Sono le 13.30. Erika e Omar di ritorno dal sopralluogo vengono lasciati da soli in una stanza. Erika e Omar si coccolano. Parlano. Omar però è molto nervoso. E ovviamente i due ragazzi non si rendono conto di essere intercettati. La polizia infatti sta guardando i due ragazzi in video. Vedono cosa dicono. Come lo dicono. Vedono quali gesti fanno. E gli inquirenti fin da subito notano una cosa. Omar si è preoccupato. Ma Erika no. Non ha nessuna preoccupazione. E infatti Erika dice. Non ti preoccupare. Ormai è fatta. Ce la faremo. Non ci scopriranno. Dobbiamo soltanto fare attenzione a mio padre. Che potrebbe aver capito qualcosa. Omar ribatte. Sì Erika ma io non ce la faccio più. Erika quindi continua. Se proprio si mette male scappiamo via da qualche parte. Dai stai calmo. Hanno bevuto la storia degli albanesi. Siamo salvi. Omar insiste. Erika, te lo ripeto. Siamo nei guai. Io non riesco a chiudere occhio. Erika continua. Beh basta continuare a seguire un certo copione. Basta stare attenti a come ci comportiamo. Omar ribatte. Beh non è facile. Io davvero sto a pezzi. A questo punto passa un po' di tempo. E in questo lasso di tempo i due ragazzi stanno lì vicini. Amoreggiano. Si danno i bacini. Si coccolano. Poi di nuovo Omar chiede. Ha sofferto? Erika ribatte fredda. Sì ma poi è andato. Omar continua. Sei sicura che è andato? Erika risponde. Beh Omar era morto. Poi Erika continua. Non hanno le prove che siamo stati noi. Non lo possono dire. Se dicono che c'è il tuo. No non ci sei stato. Non ci pensare più. Se il tuo DNA è mischiato a quello di mio fratello. Viene fuori un altro DNA. Non sono scema e neanche ingenua. Ti dico che va tutto bene. Ti chiederanno dove sei stato. Se gli dici che non sei stato tu. Io rimango come testimone. Omar guarda Erika. E di nuovo ripete. Io sto male. Erika insiste. Se ti fanno il processo. Io sono l'unica testimone. Dirò sempre che non sei stato tu. Vi è un'altra pausa. I due ragazzi di nuovo riprendono a coccolarsi. Poi Erika dice. Gliel'ho dato qui. Simulando una coltellata. Con la mano chiusa a pugno. Omar ribatte. Sì. Ed io sono complice. Erika cazzo. Tu non sai. Non è un gioco questo. C'è l'ergastolo. Sono morte due persone. Ti rendi conto di cosa abbiamo fatto? Erika risponde. Rifarei tutto. Gli inquirenti sono senza parole. Erika è glaciale anche quando parla di aver fatto fuori sua madre. I due ragazzi pare abbiano dimenticato di essere in una caserma. Infatti Omar a un certo punto guarda Erika e le dice assassina. Erika gli tira un buffetto e gli dice assassino sei tu. Non io. Gli inquirenti posano le cuffie. È il tardo pomeriggio di venerdì 23 febbraio 2001. Ed il caso di Novi Ligure ha i suoi colpevoli. Sono stati loro. Erika De Nardo e Omar Favaro. Il caso è chiuso. E ora si apre l'inferno. Perché a questo punto tutto il risentimento mosso verso lo sconosciuto, lo straniero, si sgonfia improvvisamente. E in effetti c'è stato come al solito un bel sciacallaggio politico su questa vicenda. Tutta l'Italia intanto è attaccata alla tv a guardare le immagini oscurate dei due fidanzatini di Novi Ligure. Fioriscono gli approfondamenti, gli speciali. E per il dramma di Novi Ligure ogni programma riesce a trovare uno spazio. Intanto Erika e Omar vengono chiusi in due carceri minorili differenti. Ed è a questo punto che i baci, le carezze, le carinerie passano in secondo piano. Erika viene trasferita nel carcere milanese Cesare Beccaria. Mentre Omar resta nel carcere minorile torinese Ferrante Aporti. È a questo punto che uno accusa l'altro di essere l'esecutore materiale del crimine. Erika dice che l'idea in realtà ce l'ha avuta Omar. Ha fatto tutto quanto da solo. Quella sera secondo Erika Omar è fuori di sé. Vuole eliminare la famiglia di lei per continuare tranquillamente la loro relazione. Insomma la verità è che è Omar che non ce la fa più con questi orari. Non gli va di aspettare sempre le 15.30 per vedere Erika. E non è giusto che non possano mai passare la serata assieme, neanche una volta. Erika quindi dice che lei non sa niente. Omar ha bussato alla sua porta, lei ha aperto. Poi è stata chiusa in baglio dal ragazzo. Che ha fatto tutto quanto da solo. Erika sostiene di aver protetto strenuamente Omar. Per paura e per amore. Nel carcere ferrante a porte di Torino, Omar dice le stesse identiche cose. Ma al rovescio. È stata Erika a ideare il progetto di far fuori la sua famiglia. Perché con loro stava male. Era infelice. Omar quindi l'ha solo seguita nel suo delirio. Ammette di aver sferrato qualche coltellata e di aver fatto da spalla ad Erika. I ragazzi vengono anche ascoltati dai periti psichiatrici. E in questo caso, per la prima volta, Erika finalmente si prende a una parte di responsabilità. Perché dice, sapevo che Omar veniva per uccidere. Gli ho aperto io la porta. A questo punto, secondo me, c'è una parte molto interessante. Ossia, i periti che parlano con Erika. Per l'esattezza, i periti chiedono ad Erika di parlare della madre. E gli chiedono, dimmi una cosa che apprezzavi di tua mamma. Erika risponde, ed è sicura. Eravamo uguali. I periti quindi continuano dicendo, ma quindi c'erano in effetti tutte le premesse per un conflitto pazzesco. Perché è con quelli simili che si litiga. In più, tu Erika, mi spiace dirtelo, ma non hai un bel carattere. Non vai molto d'accordo con te stessa. Erika risponde, no, non vado d'accordo con me stessa perché non mi piaccia affatto. Il perito continua. Era un enorme problema per tua madre avere una figlia che non fa niente né a casa né a scuola. Avere una figlia che vuol fare tutto di testa sua. Che non obbedisce neanche per scherzo, neanche per sbaglio. Erika risponde, no, no. Io obbedisco. Ho dato dei problemi a scuola. Il resto era a posto. Tornavo puntuale. Non m'hanno mai sgamata che tornavo a casa fusa o cose del genere. Erika a questo punto l'ha ammesso. Faceva uso di sostanze. C'è un ma in tutto questo. Erika dice che non l'hanno mai sgamata. Ma forse, sua madre, l'ha sgamata e come? Forse non ha voluto credere a quello che ha visto. E non ha visto tutto quello che avrebbe dovuto vedere. Il perito a questo punto, insomma. Insiste, dice. Erika, un chiaro segno di anormalità. È il tuo assoluto non attaccamento a tua mamma. Erika risponde con un filo di voce. Beh, ma adesso sì però. Il perito continua. Adesso sì. Però per 16 anni, se uno si chiedeva. Ma questa madre è riuscita a stabilire un attaccamento? Sua figlia è dipendente sanamente da sua madre? Oppure sua madre le è indifferente? Le dà fastidio? Erika risponde. Fastidio no. Indifferenza sì. Il perito insiste. Quindi non c'era un attaccamento, Erika. Bisognerebbe trovare lo stile di vita familiare che consenta di dire. Guardate che questa non era attaccata a sua madre. Perché sua madre non era capace di far attaccare una figlia femmina. La voce di Erika a questo punto si fa più incerta e sussurra. Forse ero io che non ne ero capace. Il perito insiste. Bisognerebbe trovare dei motivi psicologici. Le gatte, le mamme, hanno un istinto particolare che fa sì che coi cuccioli si stabilisca un legame. Nel vostro caso, no. Se è vero che tu eri così indifferente perché io non posso leggerti nella mente, Erika a questo punto trova un brandello di aggressività per rispondere. E dice, no, non è vero. Da quando sono uscita con Omar non me ne importava più niente. Non prima. Mi rompeva le scatole. Dopo un po' che mi ripetono le stesse cose io non le faccio. Però loro non mi dicono nulla. Quando ero più piccola ero sicuramente più attaccata. È scattata questa cosa. Da quando ho conosciuto Omar io ho iniziato a uscire con lui. Il perito però continua. Ci vogliono delle premesse, Erika. Erika fa spallucce e dice, io non lo so al motivo. Il perito continua. I cuccioli senza mamma diventano cattivi. Ci vuole l'amore della mamma per diventare buoni. Tua madre ti amava, Erika. Erika fa spallucce e dice, boh. E il perito a questo punto risponde. Ti pare che si possa andare in giro per le strade del mondo senza conoscere la risposta a questa domanda, Erika? È da qui che Erika resta in silenzio perché finalmente ha una reazione. Piange. Il perito fa passare qualche minuto, poi chiede, a cosa stai pensando, Erika? Erika risponde tra le lacrime. Che non so niente di mia mamma. Il perito insiste. Spiega meglio. Erika, continuando a piangere, dice, non so niente. Non so niente per davvero di lei. I periti quindi scrivono. Non conoscendo la madre, l'è venuta a mancare la possibilità di conoscere meglio se stessa. Non ha potuto sviluppare una capacità riflessiva. La capacità di riconoscere e dare un nome e un senso ai propri affetti e impulsi. La solfa si ripete anche per il padre di Erika e me, che quando racconta di lei usa la stessa identica vaghezza che Erika ha usato per raccontare sua madre. Francesco De Nardo di Erika si ricorda di averle montato una casa per le Barbie. Francesco De Nardo ricorda di sua figlia le Barbie. E' chiaro che l'uomo tra le righe ammette di non sapere niente di Erika. I codici con cui è stato cresciuto e con cui ha cresciuto però in un certo senso lo assolvono. Lui d'altro canto è sempre stato molto impegnato a conseguire cerchi obiettivi lavorativi abbastanza importanti. I periti scrivono. Il signor De Nardo conosce molto poco la figlia attraverso un rapporto diretto con lei. E' evidente come le relazioni fossero totalmente immediate dalla madre. Al punto da creargli discrete difficoltà quando deve ricordare dei momenti di contatto con la figlia, bambina o preadolescente, che non siano legati a funzioni di trasporto ma ad una relazione che consenta di approfondire un poco quello che la figura affronta crescendo. Questo però non significa che il signor De Nardo trascurasse la figlia. Ok, e allora che cosa significa? Se questo non equivale a trascurare la figlia, a che cosa equivale? Non mi è chiaro. Insomma i conflitti ci sono e alla fine emerge dalla dichiarazione dei periti che Erika e Omar hanno in effetti realizzato un delitto tremendo, ma infantile. Un progetto mostruoso che i due hanno iniziato a pensare mesi prima quasi per gioco, fino a restarne totalmente intrappolati. Se Erika può essere considerata la prima responsabile, Omar ne è diventato corresponsabile a tutti gli effetti. Ma la domanda più importante resta sempre quella. Perché è tanta ferocia? Nei racconti dei ragazzi in effetti emerge sempre più di frequente una parola. Libertà. L'amore è un'ansia di libertà in un certo senso. Una volontà di non volere vincoli o limitazioni. Questa ricerca di libertà per i ragazzi si rivela davvero infantile. Perché i due hanno addirittura pensato di mettere su famiglia. Magari abitando proprio in quella villa color salmone, nella villa di Erika. Erika ha addirittura pensato di adottare Gianluca, suo fratello. E' ovvio che questo sia un sogno assurdo. Questi due ragazzi fanno dei discorsi che neanche loro riescono a comprendere. Ma ne sono quasi sicura. C'è qualcosa che va al di là di ciò che noi sappiamo. Perché non si può premeditare un delitto da settembre, compierlo a febbraio, se non con una grande, enorme determinazione. E inoltre ci deve essere un motivo che non può essere solamente vogliamo essere più liberi. Quando peraltro lo si è di fatto. Erika e Omar erano liberi. Erika sicuramente aveva degli orari più ristretti, ma non è che la retenevano chiuse in casa giorno e notte. A mio parere deve esserci un elemento pratico. E ahimè, questo è un elemento pratico che non sono ancora riuscita ad individuare. In attesa del processo Erika e Omar restano in carcere. Lo è a Torino, lei a Milano. Ed Erika a Milano riceve centinaia di lettere di ammiratori. A quanto pare senti anche delle persone di nove Ligure. Nella vita di Erika però c'è un altro uomo speciale. Un uomo che non l'ha mai abbandonata. Ed è lui, Francesco De Nardo, suo padre. Francesco è sempre stato vicino a sua figlia. Nonostante la vita l'abbia portato a concentrarsi più sul lavoro che sulla famiglia, quando c'è stata la necessità della sua presenza, Erika non l'ha mai visto allontanarsi. Il padre di Erika, per me, oggi, è un mistero. Ma è difficile mettere becco in queste situazioni. La verità qui è che nessuno può sapere cosa abbia pensato Francesco De Nardo. Né perché abbia deciso di stare vicino ad Erika, nonostante tutto. Il 28 novembre del 2001, davanti al Tribunale dei Minori di Torino, c'è una folla incontenibile per il processo contro i fidanzatini di Novi Ligure. Ci sono tanti curiosi, giornalisti di ogni testata. In aula però non entra nessuno, a parte gli imputati, le famiglie e gli avvocati. In aula Erika e Omar sembrano due perfetti sconosciuti. Non si rivolgono mai la parola durante il processo. Inoltre si è giunti al processo con due versioni che non coincidono, che sono discordanti. Ecco perché anche in sede processuale i giudici chiedono ad Erika e ad Omar di raccontare i fatti. Erika ribadisce che l'idea è stata di entrambi, però è stato Omar a colpire. Omar invece rimanda le accusa al mittente. In questo tiremola di colpe, a far chiarezza, sono le indagini del RIS, che riescono a ricostruire cosa sia accaduto in quella villetta color salmone la sera del 21 febbraio 2001. La loro ricostruzione è questa. Susy De Nardo rientra in casa con Gianluca, che subito sale in camera sua per giocare. Erika e Omar sono appostati nel bagno adiacente alla cucina. Immobilizzano Susy e iniziano a colpirla con dei coltelli. Mentre Erika e Omar infieriscono su Susy, Gianluca scende le scale perché sente le urla di sua madre. Ed è così che chiaramente Gianluca vede tutto. È per questo che dopo Susy è la volta di Gianluca. Gianluca sta piangendo, quindi Erika lo porta al piano di sopra. Cerca di farlo calmare e a quel punto risale anche Omar per finire il lavoro. Insomma, secondo i RIS di Parma, hanno colpito entrambi. La difesa di Erika e gli avvocati di Omar insistono sull'incapacità di intendere di volere dei due imputati. Per i periti del tribunale, invece, I due ragazzi erano e sono in grado di intendere di volere. Erika sarebbe affetta da un disturbo narcisistico della personalità che la rende indifferente e superiore, ma non certo incapace di intendere di volere. Omar invece è afflitto dal problema opposto, ossia disturbo dipendente della personalità. Il 14 dicembre del 2001, la Corte del Tribunale dei Minori emette la sentenza. Erika viene condannata a 16 anni, Omar a 14. Sono stati dichiarati capaci di intendere di volere. La pelle e la Cassazione confermano integralmente la condanna di primo grado. Quando diventano maggioreni, Erika e Omar vengono trasferiti dal carcere minorile alla prigione ordinaria. Omar però il 3 marzo del 2010 ha ottenuto la libertà definitiva, mentre oggi Erika De Nardo è sposata. In carcere si è diplomata come perito geometra e poi si è laureata con il massimo dei voti in lettere e filosofia. Ha scontato 10 dei 16 anni ai quali è stata condannata, oltre ai mesi di affidamento alla fondazione Exodus di Don Antonio Mazzi. Il padre è stato molto importante per la riabilitazione di Erika, che oggi ha una nuova vita, ha maturato la giusta consapevolezza sulla tragedia. Anche se mi chiedo cosa sia, quale sia quella consapevolezza che ti permette di continuare a vivere. In ogni caso oggi Erika De Nardo ha 37 anni, mentre Omar ne ha 38. Detto questo ragazzi ho finito di sproloquiare in questo video, spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Fatemi sapere quello che pensate di questo caso, che è molto molto famoso. E fatemi soprattutto sapere se per il caso ho tralasciato qualcosa che vorreste aggiungere. Io vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Ciao ragazze, ciao ragazzi!